Inizia di Cremona, il sorriso dei fratelli d'Italia, Rami e Adan, gli eroi, sono davvero dei piccoli eroi del pullman dirottato, ecco come abbiamo salvato i nostri amici, dicono i due ragazzi, il sollievo, siamo miracolati il giorno dopo la sventata strage del bus, degli alunni di Crema, il drammatico racconto della Bidella, mi ha puntato il coltello e obbligato a spargere benzina, oggi arriva il ministro dell'istruzione Bossetti.